Siamo qui a Montalcino dopo una tappa molto impegnativa che è partita oggi da Montepulciano. Forse la tappa più bella che abbiamo fatto fino adesso sia per la tipologia del tracciato perché oggi abbiamo percorso i famosi tratti di strada bianca, delle strade bianche molto impegnativi, molto tecnici e poi perché avevamo un lotto di partecipanti veramente di primissimo d'ordine. Molte stelle oggi al via dalla Manuela Dicenta a Yuri Chechi a Nicola Larini a Moreno Argentin a Igo Astarloa. Un sacco di persone che hanno vinto molto, hanno vinto medaglie olimpiche, hanno vinto campionati del mondo. Quindi diciamo un lotto di partecipanti veramente incredibile che ha dato lustro a questa tappa e che ha aiutato i partecipanti e aveva un'esperienza unica e meravigliosa. Un sacco di persone che hanno vinto campionati del mondo. Un sacco di persone che hanno vinto campionati del mondo.